ciao stefano ciao pavia ciao pavia play tv ciao lara ti mando un bacione ciao a chi mi conosce anche a chi non mi conosce allora io volevo porvi un quesito oggi è da qualche giorno che si sta parlando della gravidanza della nuova compagna di fabrizio corona voi sapete che lui ha già avuto un figlio dalla bellissima modella nina moric vabbè adesso ormai lui anche grande a 21 anni mi sembra e la nuova compagna di fabrizio corona è incinta lei molto più giovane di lui ma la cosa che sta facendo un po discutere che non è tanto la differenza di età è proprio fatto che lui ha 50 anni quindi alcuni dicono ma 50 anni comunque devi fare il nonno non devi più fare il papà insomma c'è un po questa querelle chiamiamola così da gossip a cui io francamente rispondo che secondo me a 50 anni si è ancora giovane ormai rientriamo nella normalità che i genitori comunque sia facciano i figli tardi io stesso superato da poco diciamo così 40 io ho due bambini piccoli tanti miei coetanei hanno già i figli adolescenti ma va bene questa è un'altra storia detto questo voi che cosa ne pensate quindi vi pongo questo quesito secondo voi è giusta per un figlio a 50 anni perché comunque sia sia ancora giovani oppure a 50 anni sia ancora vecchi quindi bisogna comunque farsene una ragione perché i figli vanno fatti intorno ai 30 35 massimo 40 diciamo così rispondetemi io sono elen e vi mando un salutone grande grande ciao